Dopo l'accorato appello dei familiari dei pazienti deceduti per Covid e non solo i cui oggetti ed effetti personali erano spariti nell'ospedale di Pescara, sostenuti dal vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, si è svolto stamani un incontro tra i parenti dei pazienti e i vertici dell'ASL. Da parte del dottor Valterio Fortunato, del direttore generale Vincenzo Ciamponi, c'è stata massima collaborazione. Se abbiamo sbagliato dobbiamo provvedere per il futuro e lo faranno, hanno precisato, anche attraverso un regolamento più rigido. In questi due anni di pandemia è cambiato tutto, noi siamo stati stravolti sia nella organizzazione ma anche nella gestione dei reparti. Anche questi piccoli particolari hanno costituito dei problemi e proprio a questo proposito abbiamo raccolto le problematiche di alcuni familiari di pazienti ricoverati che hanno subito lo smarrimento o il furto, questo non è stato ancora accertato, di beni personali. Al di là del valore intrinseco dei beni, questi beni personali costituiscono un legame affettivo per i familiari e quindi c'è stata una, diciamo, pressante richiesta di alcune famiglie per arrivare a un miglioramento della situazione. E proprio con queste famiglie abbiamo avviato un percorso condiviso che ha portato a una rielaborazione delle procedure. Ora abbiamo rivisitato la procedura ospedaliera di deposito dei beni personali, l'abbiamo estesa a tutti e tre gli ospedali e l'abbiamo diffusa a tutto il personale. È più rigida, più precisa di quella precedente e speriamo che questo fenomeno venga a contenersi. Il dottor Fortunato e tutti gli altri, io per ultimo, cerchiamo di mettere per gli iscritti e cerchiamo di educare. È chiaro che non si può riuscire a far tutto, qualche errore c'è, è mio, impariamo dei nostri errori. Le famiglie ci hanno dato una mano nel senso che piuttosto che essere aggressivi con noi, ci hanno aiutato a capire dove possiamo migliorare, cosa è stata fatta. Pettinari, soddisfatti da questo incontro? Beh sì, abbiamo fatto un percorso assieme, abbiamo fatto prima diverse manifestazioni con i familiari delle vittime, abbiamo fatto una grande battaglia, una importantissima battaglia che ha prodotto questi effetti positivi. Quindi quando c'è sinergia tra le stesse istituzioni, io rappresento la Regione Abruzzo, questo è un ente dell'azienda ospedaliera della Regione Abruzzo, quando c'è sinergia e concertazione sui temi essenziali poi si producono effetti positivi. E quello di oggi sicuramente è un effetto positivo in memoria delle vittime, affinché quello che è accaduto non accada più.